Con lo spirito che abbiamo fino ad oggi, che è quello di divertirsi e rimanere spensierati. Quella che sostanzialmente è stata l'arma vincente e speriamo possa continuare ad esserlo. Quella contro l'Ioni, che gara sarà? È una gara aperta alla tripla, come tutte le finali. Una gara senza dubbio dura, una gara dove partiamo sfavoriti. E' anche giusto che sia così, una squadra di caratura superiore, almeno sulla carta, e per quello che ha fatto vedere durante il campionato, andando vicino alla vittoria del campionato con il Grotta. La vittoria contro il San Marzano, quanta convinzione in più ha data al suo FC? Come ho detto più volte, l'FC Avellino ha paura solo dell'FC Avellino, ma questo non per essere presuntuosi, ma sempre per il solito motivo, cioè che i giovani danno e tolgono contemporaneamente quelle che possono essere motivazioni e ovviamente quel pizzico di inconscienza di cui c'è bisogno in queste partite. Con il San Marzano è andata bene, i ragazzi hanno interpretato la gara al massimo, ovviamente giocare fuori casa e con un solo risultato a disposizione può essere sicuramente più difficile, ma si faranno sicuramente trovare pronti e hanno voglia di vincerla questa partita.